Le case a luci rosse a Ragusa chiudono con la stessa velocità con cui aprono, tutto grazie alle segnalazioni dei cittadini che, certamente urtati dal continuo via vai di gente nella loro zona, avvisano le forze dell'ordine. In diversi casi la situazione di disagio rasenta anche l'incredibile. Clienti di prostitute che, da finestre o porte lasciate aperte per il caldo, entrano nelle abitazioni sbagliate pensando di trovare la prostituta appena contattata invece di una donna alle prese con le proprie faccende domestiche. Imbarazzo e sdegno che continuamente si registravano in via Elia nel centro storico di Ragusa almeno fino a qualche giorno fa, quando alcuni vicini appunto si sono stancati informando dei fatti la polizia di stato. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato nella casa luci rosse intente a prostituirsi due sudamericane che da qualche settimana si trovavano a Ragusa con l'intenzione di permanere per altre due settimane. Le circostanze sull'utilizzo di case private come luoghi dove praticare il meretricio sono sempre le stesse. I proprietari di casa chiedono in media 400 euro a settimana per case con rendita mensile ordinaria di circa 300 euro. Difficilmente vi è un'attività di sfruttamento. Spesso vi sono condizioni di favoreggiamento da parte dei proprietari di casa o di veri e propri agenti pronti a trovare clienti. In base alle richieste cambia anche il prezzo delle prestazioni sessuali dai 30 fino ai 500 euro. Le leggi vigenti non vietono la prostituzione ma solo il favoreggiamento e lo sfruttamento. Pertanto le donne sono state invitate a non recare più disturbo ai vicini e il cliente è stato congedato dopo le sue dichiarazioni. Il proprietario di casa a dire a dei residenti già più volte avvisato di quanto accadesse dentro casa sua è stato diffidato dal far continuare ad esercitare la prostituzione in casa. L'uomo fingendo di essere ignaro di quanto accadesse in casa sua ha provveduto ad allontanare le due donne considerato il fatto che non avevano titolo per dimorare avendo il locatario subaffittato l'immobile. Come ormai è consietudine le donne che si prostituiscono sono itineranti. Cambiano città ogni 20 giorni massimo così da attirare ancora più clienti che cercano incontri sempre diversi trovando la pubblicità su siti internet specializzati. Con questo sale a due il numero delle case del piacere fatte chiudere dalla polizia di stato. Un trend in diminuzione dato che lo scorso anno sono stati sei interventi della polizia in questo settore.